Innanzitutto è una coppia, arrivano da Alcona. Chi c'è di Alcona qui? Dov'è Alcona? Guardatevi sentire! Ecco qui! Questa coppia prepara questa esibizione. La scuola Chiara Imbiga presenta questo nuovo spettacolo, l'esperienza di una ragazza che, leggendo un misterioso libro, viene rapita in un sogno fantastico. Quindi un qualcosa veramente di particolare. Per la prima volta sul palcoscenico del Festival dell'Adriatico, la scuola Chiara Imbiga con Maria! Maria conosceva gli dèi. Gli dèi venivano dalle stelle. Ci hanno creato a loro immagine e somiglianza. Ma loro non sono come noi. Era già accaduto. Duemila anni fa hanno utilizzato un'umana per creare una vita speciale. Oggi, per accogliere questa vita speciale, Maria deve essere felice. E per essere felice, Maria deve ballare. La scuola Chiara Imbiga presenta questo nuovo spettacolo, La scuola Chiara Imi sa qualcosa di nuove presente. Ma loro è piccante. Come mi scuola chiara? La scuola Chiara Imbiga presenta questo nuovo spettacolo, il cora Chiara Imbiga presenta questo nuovo spettacolo, la scuola chiara. Chiara Imbiga presenta questo nuovo spettacolo, chiara complainnibi da piuttui. E per l'availleurs, scuola localizzata questa nuove alto, o che produzi gently arroscontate qui Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.